Edizione numero 7 per il premio Mario Gallo 2013 che partirà il prossimo 3 dicembre e durerà fino al prossimo 19 gennaio e presentato nel corso di una conferenza stampa nella Sala degli Stemmi della provincia di Cosenza. Il premio Mario Gallo nasce nel ricordo di un grande produttore del cinema italiano che è stato produttore di Lucchino Visconti, presidente dell'Istituto Luce dell'Italnoleggio quindi una delle massime figure istituzionali del cinema italiano che abbiamo voluto ricordare nell'anno successivo alla sua scomparsa, il 2006. Idea, devo dire, che è stata supportata dal Ministero per i beni culturali che subito ci ha sostenuto in questo progetto di dedicargli un'iniziativa culturale di spessore come un premio cinematografico. Oggetto della premiazione, un'opera creata e realizzata dal noto artista Claudio Angione che va a personalità distintesi per il loro rilevante contributo al cinema come forma d'arte nel solco del lavoro di Mario Gallo, produttore tra gli altri di Lucchino Visconti, Florestano Vancini e Nanni Moretti e da sempre attento alla qualità del prodotto cinematografico.